Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo delle lime diamantate, adatte per lavorare su materiali duri. Lavorano su vetro, su pietre, su metalli. Abbiamo varie forme. Abbiamo delle forme semitonde, delle forme rettangolari piatte, delle forme tonde. Sono molto sottili e servono per lavorare per lavori di precisione. Trovano un impiego nel vetro, per la ceramica, per materiali molto duri. Sono prodotti che vengono impiegati per modellismo, nel settore mineralogico, nel settore della creatività e tutte le volte che dobbiamo sagomare, togliere materiale, incidere, materiali duri. Lime diamantate. Buona visione e grazie per averci seguito. Buona giornata. Buongiorno a tutti.